Gli ultimi episodi avvenuti in montagna rimettono al centro il tema della sicurezza e del corretto equipaggiamento. Ieri due escursionisti sono rimasti bloccati in un sentiero sul versante aquilano del Gran Sasso perché non avevano attrezzature e abbigliamento adatti a salvarli e recuperarli il soccorso alpino e speleologico. Non è la prima volta che accade, di qui le solite raccomandazioni che si ripetono sempre ma che evidentemente non vengono ascoltate da tanti. È lo stesso soccorso alpino a ricordare che va prestata la massima cura anche a questi dettagli che possono sembrare insignificanti perché anche se la neve non c'è il ghiaccio può essere ancora più insidioso. In montagna ormai, e cosa nota, le condizioni del tempo tendono a peggiorare con un secondo per cui ci sono una serie di accorgimenti utili da tenere sempre a mente, valutare le condizioni meteo ed essere sempre attrezzati ad ogni evenienza anche nell'abbigliamento e nelle scarpe. Il problema di questo periodo è che c'è pochissima neve e quindi le persone pensano di affrontare la montagna con semplicità, con facilità. Succedeva spesso negli anni scorsi che affrontavano la via del Gran Sasso, che è chiamata direttissima, con le scarpette da ginnastica e poi scendendo per la normale trovavano il ghiaccio, la neve dura e quindi completamente inattrezzati erano costretti a chiamare il soccorso alpino. Bisogna ricordare che per andare in montagna bisogna avere una discreta preparazione fisica e nello zaino bisogna contenere tutte quelle che sono le attrezzature che possono garantire la sicurezza. Quindi con questo periodo bisogna avere la piccozza, bisogna portare i ramponi, bisogna avere un pezzo di corda e tutti gli strumenti atti ad assicurarci in caso di pericolo.